Vedete signori io non so dove sia concentrata l'attenzione degli italiani in questo momento Probabilmente nel caso Chiara Ferragni Fedez Non voglio neanche andare a schierarmi contro i social media Le televisioni svolgono una comunicazione che comunque serve alle persone Ma ci sono determinati dati che purtroppo non vengono mostrati Dati che chiaramente non possono essere intesi da tutti Ma per chi è dentro questo mondo, per chi conosce bitcoin, per chi ha seguito Noi crypto influencer magari sì siamo un bel vedere meno bello rispetto a Chiara Ferragni Fedez O chi pubblica cavolate sui social Ma quello che sta succedendo su bitcoin potrebbe essere veramente un qualcosa di mai visto nella storia della finanza E potrebbe andare a creare un cambiamento economico generazionale Quindi durante il corso di questo video mi affiderò ai dati Perché è l'unica cosa sulla quale dobbiamo andare a fare affidamento Quindi dati certi e reali Non so quando vedrete questo video magari i dati saranno aggiornati e saranno cambiati Ma ha voluto riassumere quello che è successo in questi giorni Per cercare di fare chiarezza a tutte le persone Per dare comunicazione in senso oggettivo Ovvero dove i dati ci mostrano realtà dei fatti Che cosa sta succedendo? Bitcoin sta andando parabolico Nella giornata di oggi ha toccato i massimi storici in euro Superando i 60.500 euro E questo dovuto a molteplici fattori Cerchiamo di analizzarli nel dettaglio Quindi il motivo principale Quello che ha dato sfogo a questo movimento di alcista è stata l'approvazione Degli ETF spot su Bitcoin BlackRock è il più grande fondo di investimenti al mondo E il fondo ETF spot di Bitcoin su BlackRock Ha raggiunto un all time hike di 1,3 bilioni di euro di volume in un singolo giorno Gli ETF spot di Bitcoin sono stati un successo enorme La capitalizzazione di circa 19 bilion dollar Con più di 318 mila Bitcoin comprati Chiaramente i dati si stanno continuando ad aggiornare E come potrete andare a vedere da screen La quantità, il volume di Bitcoin che viene comprata dagli ETF È 10 volte superiore alla quantità di Bitcoin prodotta dai miner Quindi aggiungiamoci anche il fatto che fra circa un mese È previsto in data 21 aprile Dal 14 al 21 aprile se non sbaglio Nel blocco 840 mila di Bitcoin Ci sarà l'halving che andrà a dimezzare il premio che viene dato ai miner Quindi si creerà ancora più scarsità nell'asset più ricercato in questo momento al mondo Perché gli ETF di Bitcoin hanno superato qualsiasi record mai visto nella storia della finanza tradizionale Questo ragazzi sta succedendo davanti ai nostri occhi Io sono a Tenerife quindi scusatemi non ho ripreso lo studio Però ecco dobbiamo renderci conto di che cosa sta succedendo Rimanete con me perché la faccenda si sta facendo ancora più interessante Quindi direi di entrare e di vedere altri dati Piccolo momento sponsor per investire e comprare criptovalute Utilizzo Bidget Bidget è uno dei principali exchange crypto È sponsor di Messi e della Juventus È uno dei migliori exchange crypto dal lato trading, copy trading, wallet spot Quindi ve lo consiglio assolutamente se volete investire in crypto, in Bitcoin nel breve periodo oppure nel lungo periodo Quindi continuiamo con i dati Questi sono il totale dei Bitcoin posseduti da BlackRock Quindi 151 mila Bitcoin per un totale di 9 billion e 4 di market value Quindi l'etf spot di BlackRock è il più grande del mercato Adesso arriviamo ad un argomento cruciale ovvero microstrategi Ragazzi questo forse è una chicca che io voglio condividere con voi Come sappiamo microstrategi Il founder di microstrategi Michael Saylor ha sempre investito tutto in Bitcoin L'azienda si basa sul fatto di investire a ogni revenue Bitcoin L'azienda è quotata quindi abbiamo la quotazione di microstrategi Ma la cosa veramente assurda è che questo rialzo di Bitcoin ha portato a far sì che la capitalizzazione di microstrategi Passasse sopra i 15.8 billion dollar Questo significa che microstrategi dovrà essere implementata nell'S&P 500 S&P 500 che attualmente ha i massimi storici così come il Nasdaq E quindi questo cosa comporta ragazzi pensateci bene che sì investire in microstrategi significa investire indirettamente in Bitcoin Quindi non tramite un ETF spot Ma questo significa che investire nell'S&P 500 significa essere esposti indirettamente in Bitcoin Perché appunto c'è un'azienda che si basa su Bitcoin sull'S&P 500 Capite con quanti mezzi sta entrando Bitcoin nella finanza tradizionale E se nel 2021 quindi se nel 2021-2017 avevamo solo i retail Adesso stanno entrando le istituzioni Le istituzioni lo stanno comprando o non lo stanno vendendo Questi sono i dati che ci mostrano Poi fra un mese ragazzi i dati potrebbero essere diversi Fra due settimane decidero di sgonfiare il mercato I dati però ad oggi ci stanno dimostrando questo E quindi è giusto fare giusta informazione su ciò A tutto ciò si aggiunge il tweet di Edward Snowder che ha destato panico nel mercato Ovvero ha predetto, ha detto che un governo ha già comprato Bitcoin senza averlo fatto sapere pubblicamente Questo governo chi potrà essere? Ricordiamo che siamo in uno scenario macroeconomico di guerra Quindi con la Russia coinvolta con la guerra in Ucraina Con tensioni nella striscia di Gaza Tutto ciò ha portato ad un aumento incredibile di prezzo di Bitcoin Che come detto ha toccato i massimi storici in euro nella giornata di oggi Ma anche lo possiamo andare a vedere i massimi storici in più di 30 valute Compresa per esempio l'Argentina, anche il Giappone contro lo yen ragazzi Bitcoin a massimi storici Quindi è un fenomeno che sta avvenendo ora È giusto formarsi Dovete iniziare ad approfondire questo mondo ragazzi Se questi non sono dei dati io non so cos'altro mostrarvi Da Simo Defa è tutto Vi invito ad iscrivervi al canale per seguire tutti i miei prossimi contenuti E vi ricordo che se volete comprare Bitcoin e criptovalute potete utilizzare Bidget Link in bio per registrarvi Noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video Noi ragazzi ci vediamo in prossimo video